ciao ecco una simpatica app per cellulari tempo che si apre la pubblicità una bella toglia voi li ho messo, li metto no ecco andiamo a sentire ecco se vogliamo settarla come suoneria teniamo premuto sopra e c'escono queste quattro voci ringtone, notifiche, allarme, contatti se voglio settarla come ringtone clicco su ringtone e diventa la sonoria del cellulare come notifiche quando ti arrivano le notifiche, come allarme l'allarme che ti suona quando ti svegliate la mattina quando ti devi svegliare oppure come contatti, premio il contatto e decidi di assegnare a qualsiasi un determinato contatto molto semplice da usare e molto divertente ciao ragazzi